Brookhaven è un posto bello tranquillo e ci sono persone che creano case poi tutte anche uguali ma la notte diventa ancora più pauroso perché ci possono essere delle persone che ti spiano come quello faremo gli avanti più paurosi su Roblox o pure Brookhaven infatti faremo degli avatar paurosissimi e andremo a spiare queste persone quindi Peni ci ha lasciato un bel like e iniziamo subito là c'è la mia amica andiamo corriamo, corriamo, corriamo eccola ok stiamo attenti là c'è la mia amica ciao ok qua ci sono delle prime persone da spiare e per poi fargli un nuovo scherzetto primo avatar allora per l'appunto vi servirà la carnagione bianca perché per far più paura poi dovete comprare questa maschera questa è inquietante poi ecco poi acquistiamo poi dovete comprare provare dovete comprare questi capelli qua togliamoci le orechi e poi dovete e poi dovete mettervi questo vestito ecco questi qua questi pantaloni o questi questi due però questi a noi servono questi poi di maglietta vi mettete questa infatti potrei fare una mambo inquietantissima ok poi per accessorio vi mettete questa infatti così sarà ora un piccoletto al palo mia skin e andiamo subito su brookhaven ok per fare più paura dovete fare questo trucchetto dovete scrivere in chat wolf questo comando e poi dovete prendere il cavallo che si trova qua aspettate che da questa parte non si può spawnare dice impossibile spawnare sul posto quindi facciamolo qua dai 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 fammelo fare ecco fate qua così e tadan andate sul cavallo e farete questo effetto quindi andiamo eccomi andiamo piano 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 non mi devono sentire intanto loro stanno scrivendo qualcosa e non so nemmeno chi sono qua dietro adesso andiamo piano piano no che figura no vediamo cosa scrive ma chi è dovete fare questo trucchetto andate qua dovete andare sul ehi dove ah boh ok andiamo su ehi dove siete ecco dovete andare su racconti spaventosi oh ok si sta spaventando si sta iniziando a spaventare secondo me hanno paura ma lo stiamo facendo io scappo ciao ok devo seguire dello schermo e seguirle no dove dove vanno dove vanno prossimo avatar pauroso praticamente allora vi serve la carnagione nera poi dopo mettete queste gambe qua dopo aver messo la carnagione poi andate nelle facce e nelle facce mettete ehm dove 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 questa qua di Jenna questa qua che fa favorissima poi dovete andare nelle nei vestiti non potete capire quanto è pauroso questo poi vi mettete questi pantaloni qua e così l'avatar è completo ma poi il pezzo forte oh questi occhi dietro ma adesso noi faremo una bella risata visto che adesso il vostro avatar sarà così andate qua vi cambiate visto che così il vostro avatar sarà così fate a zero personaggio semplicemente oh oh qualcuno qua mi ha già scoperto no no eccola ma c'è ancora ma hanno scritto tutte e due ma oddio è un server moledetto sto scappando inseguiamola però prima facciamo e uè chi sei uè zio chi sei è il mio amico gelosino mi dissocio io distanza mi dissocio eh devo stare attaccato ok adesso proviamo a fare un trucchetto per il bellissimo ok e facciamo questo mettiamo la canzone e aspettate e poi prendete l'arma bellissima prendete questa arma che si trova nell'inventario Gesso non ti accettano tanto lei sta pensando sulle cose mancai ok su noi dobbiamo sparare si è nascosto un abbraccio e si risolve tutto hanno paura ma soltanto così perché ha paura è un abbraccio un abbraccio e abbracciare sta cosa Gesso Bokin sta fermo lo vuoi abbracciare sta fermo zio ok ok adesso facciamo eh ma si calma ora andiamo mamma sorta calmo no 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 peggio e i tè e i tè non si dicono le parolacce calmo ok ok allora per il prossimo avatar vi serviranno questi capelli qua ok poi dovete comprare questa che è praticamente gratis questa qua e poi e poi questa qua questa maglietta questa camicia e poi questo e sarà il risultato questa samara paurosa insieme dovete mettere queste gambe no 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 non inizia non inizia per cantigone ecco così stiamo entrando stiamo entrando ok cambiamoci l'avatar facciamoci così ok non ci devono vedere ci devono vedere girati ok no mi son messo mi son messo eccomi si è ancora spaventata una braccia risolve tutta no qualcuno è morto ho sentito morire ho sentito morire qualcuno si sta difendendo con questo con un pupazzino ok scriviamoci di sopra samara ok ah mio dai no forse mi ha scoperto che sono io no forse mi ha scoperto ah no forse weeeh 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 aiuto non hanno parrieto ho paura questa volta si è fatta che mi hanno scoperto si stanno rubando andiamo andiamo ancora da emanuela vediamo che dice secondo me sono accorta no 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 vediamo che dice qualcuno sta scrivendo oddio ho paura ho paura sta qua oddio ha paura ha paura questa questa ha paura raga io abbraccio tizze a casa questa qua è proprio pazza vedo se mi abbracciano raga chi ok andiamo da questa parte purtroppo questo è lui chiara secondo me questa ha paura ehi mi sta qua mi sta girando intorno purtroppo questo è l'ultimo avatar come io stavo per dire però ce ne saranno altri altri oh quella lì è uscita perché avevo paura forse oh ma qua c'è un'altra qua c'è un'altra qualcuno di altri giocatori chi è questo chi è questo giocatore ehi chi è questo io lo clicco non mi fa no che è piano questo qua ha paura e poi sta facendo paura lui oh calma ok ragazzi quindi questo era l'ultimo avatar scrivete nei commenti qual è stato il vostro avatar preferito tra quei tre quindi adesso c'è questa qua che mi sta cercando di tirare un po' pazzo in faccia e quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un sacco di mi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao